L'ANAS ha provvisoriamente chiuso il tratto sulla due autostrada del Mediterraneo a Morano Calabro in provincia di Cosenza a causa del ribaltamento di un autocarro con perdita di carico. Sulla due autostrada del Mediterraneo è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione nord tra gli svincoli di Campotenese e Mormanno al chilometro 176 nel territorio comunale di Morano Calabro in provincia di Cosenza per consentire la rimozione del carico disperso da un autocarro ribaltato. Prevista in direzione nord l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari per i veicoli leggeri uscita allo svincolo di Campotenese. Sul posto è presente il personale delle forze dell'ordine di ANAS impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.